Popolo della famiglia, in Abruzzo approggerà Fabrizio Di Stefano, come mai questa scelta? Con grande piacere appoggiamo Fabrizio Di Stefano perché rappresenta in pieno la sua candidatura e i nostri valori che nascono dalle grandi battaglie a difesa della famiglia, della vita e della persona e crediamo che la sua candidatura possa essere un'occasione di rinnovamento e di rilancio per tutta la regione. Saremo a suo fianco come popolo della famiglia perché crediamo che nel programma e nella sua persona si possono concretizzare le grandi battaglie che ci vedono in campo, come il reddito di maternità, come il quotiente familiare, come il sostegno alle imprese familiari che sono il tessuto economico e industriale di questa regione dell'Italia intera. Beh, questo senso la mia candidatura da parte del popolo della famiglia per me è motivo di grande orgoglio e soddisfazione perché oltre l'indubbio risultato anche numerico che potrebbe darmi l'aggiunta del popolo della famiglia ma è soprattutto un dato valoriale che mi conforta. Ho incontrato martedì Mario Di Nolfi a Roma e mi ha annunciato questo suo sostegno in quanto il mio percorso politico è stato segnato da una serie di battaglie, di iniziative, di azioni che incrociano il bagaglio valoriale del popolo della famiglia, la difesa della vita, la difesa della famiglia, la difesa di certi valori tradizionali che poi sono la base della volontà di chi crede nella politica come una missione, come un atto di appartenenza a dei valori dell'età gioculturale.